Buongiorno e benvenuti nel mio spazio. Oggi parlerò di un fenomeno, una sintomatologia o un disturbo, se così vogliamo chiamarlo, assai diffuso nelle nostre società di tipo industrializzato. Sto parlando del concetto o sensazione di mani e piedi sempre freddi. Problema che spesso e volentieri viene classificato come, tra virgolette, normalità perché lo si è sempre avuto, perché magari ce l'avevano i genitori o altri familiari e spesso si vanno a ignorare quelle che sono le cause. Chissà come mai è così, ma forse è sempre stato così, ma anche i miei genitori erano così, ma d'altronde ho sempre avuto questo problema. In realtà cos'è questo problema o perlomeno cosa rappresenta? Il concetto di mani e piedi sempre freddi è dovuto a un problema di vasocostrizione periferica, indotto a sua volta da un'alterazione sistemica di quello che è l'equilibrio del sistema nervoso. Ecco, qui si entra un po' nel difficile. Vediamo di far luce. Dunque, in virtù della circadianità quotidiana, quindi dell'alternanza tra luce e buio, il nostro corpo dovrebbe, metto il condizionale, bioregolarsi a livello cellulare in funzione di questo appunto ritmo. E questo lo fa grazie ad alcuni meccanismi cellulari interni che prendono spunto appunto dall'alternanza luce e buio, che comunicando con il sistema nervoso predispongono l'organismo ad assumere quello stato di, tra virgolette, sistema nervoso simpatico piuttosto che parasimpatico, a seconda del fatto che si parli della fase di urna piuttosto che della fase notturna. Ecco, nelle società moderne questo equilibrio si è un po' perso nei meandri dell'industrializzazione. Cosa voglio dire? Che dalla prima rivoluzione industriale in poi, grazie all'avvento anche delle luci artificiali, si è potuto allungare a dismisura quella che è la fase di urna, la fase di dispendio energetico, la fase nelle quali viene richiesta una maggiore vigilanza da parte dell'essere umano, piuttosto che una maggiore presenza, una maggiore attenzione, l'esserci sul pezzo. Questo causa a sua volta però un accorciamento della fase di recovery, quella della fase del parasimpatico. Nel tempo questo porta a dei disturbi, a delle alterazioni, delle disregolazioni, si chiamano disregolazioni circadiali. Una di queste ad esempio è una regolazione non più equilibrata della produzione del cortisolo tra la sua produzione di urna e quella notturna. Se poi ci aggiungiamo che nella fase di urna il nostro corpo inconsapevolmente o consapevolmente è sottoposto ad una miriade di elementi che vanno a disturbare o perlomeno a accendere, a mantenere sempre acceso il sistema recettoriale, facendoci stare sempre un po' in allerta e da qui si va proprio dalle luci artificiali a tutti i meccanismi tecnologici che ci circondano, il traffico, il caos, le luci, i ronzii, le richieste della società, le richieste della famiglia, le richieste anche di noi stessi, verso noi stessi, sull'altro gioco di parole, causano un'alterazione del sistema d'allerta, di quello famoso sistema attacco e fuga. Questo cosa provoca? Immaginiamo di dover scappare da un reale pericolo, un leone che ci vuole azzannare, un tironosauro che invade la nostra abitazione, per difenderci da queste situazioni noi avremo bisogno di energia pronta all'utilizzo, ma soprattutto di forti e violente e brevi capacità di contrazione muscolare, proprio per avere energia o per scappare via o per fronteggiare questa situazione. Uno degli effetti che il nostro corpo metterebbe in causa, una delle situazioni che metterebbe in causa per poterci permettere di fare tutto questo è la vasocostrizione muscolare, data a sua volta poi dall'intervento del sistema nervoso simpatico e tutta una serie di regolazioni nervoso e ormonali. Ecco, questo è un effetto lampante, cessato l'attacco del leone o del tironosauro il corpo tornerebbe serenamente al suo stato di equilibrio. Purtroppo in questa società ciò non avviene sempre, anche se questo purtroppo avviene, altro gioco di parole, a propria insaputa. Il nostro sistema recettoriale resta continuamente in uno stato di allerta, quindi di vasocostrizione, anche a propria insaputa, dovuto al proprio stile di vita. Questo provoca nel tempo un'alterazione della produzione di cortisolo, cioè si vanno a produrre troppo cortisolo, il quale va a danneggiare poi anche le pareti delle cellule piuttosto che le pareti dei vasi sanguini che già sono in continua vasocostrizione. Se le pareti vengono danneggiate c'è minore scambio di ossigeno e minore scambio di sostanze a livello tessutale, questo provoca nel tempo poi anche a quel fenomeno, tra virgolette di Reynolds, quindi chi ce l'ha sa bene di cosa sto parlando. Quindi il fenomeno delle mani, i piedi sempre freddi non è una casualità, non è sfortuna pieguta dal cielo, ma è una conseguenza del proprio stile di vita o dello stile di vita del quale purtroppo siamo immersi in queste società di tipo industrializzato. Alla prossima puntata.